il libro archidemia di bronzolo, archidemia di bronzolo, archidemia di bronzolo, il libro archidemia di storia e personaggi in quarta edizione lo trovate qui l'archidemia oppure su amazon, compratelo, leggetelo, fate una buona recensione su amazon allora iscrivetevi al canale youtube archidemia di bronzolo e i gruppi facebook archidemia di medicina per l'anima e le orchidee degli semi questo è il quarto librettino della serie l'orchidea di medicina per l'anima questo si chiama proprio l'orchidea di medicina per l'anima questo è il prototipo perché vedete questo attriso qua in mezzo che vuol dire che non è in vendita è solo per correggere una borsa dovrebbe essere in questi giorni andare disponibile su amazon e questo è un libro che penso che sia unico in italia sicuramente, forse in Europa e forse nel mondo perché non è un libro ci sono un sacco di libri che ce lo chiede oggi quando ho cominciato io non ce n'era adesso ce n'è un casino sono quasi tutti manuali poi ci sono dei libri fotografici dei libri scientifici ma non c'è un libro sulle emozioni cioè sono tutti libri sulle orchidee su come coltivarli o su botanici, così sulle orchidee ma sulle emozioni che ci danno non c'è niente e qui è una raccolta delle vostre risposte a tante domande e ne ho un casino pieno poi qui abbiamo sintetizzato per stare dentro nel formato perché solitamente questi libri qua erano 80 pagine questa qui adesso è 100 e abbiamo ridotto i caratteri abbiamo fatto il carattere 11 invece il carattere 12 e ci sono due a continuare a tagliare perché questo sono 100 e rotti i mila caratteri ho cominciato con 300 mila poi taglia, taglia, taglia adesso siamo arrivati così più non potevo tagliare comunque poi nei prossimi giorni vi leggerò qualcuno di questi commenti che sono fantastici e mentre li leggevo per correggere gli errori così e l'ho fatta una rilettura mi veniva proprio di emozionarmi credessero già tutti quasi a memoria va bene sarà disponibile nei prossimi giorni su Amazon oppure qui l'archideria come è pronto lo prendiamo ok a domani ok a domani è visto che